Chi trasporta derrate alimentari deperibili deve attenersi a norme igienico-sanitarie ben precise che preservino gli alimenti nella loro integrità e salubrità. Chi fa trasporti di genere alimentare si deve attenere alla legge che regolamenta questo settore del trasporto. La legge è la 283 del 62 che all'articolo 1 prevede che il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con un mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare dalle sostanze alimentari trasportate e dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali. Inoltre precisa anche le temperature delle sostanze durante il trasporto che devono essere comprese tra i 4 e i 6 gradi massimo o pari o non superiore a meno 18 gradi per le merci surgelate onde evitare, come recita il decreto, un cattivo stato di conservazione. In questo periodo dell'anno in cui le temperature raggiungono valori elevati maggiori sono i controlli delle forze dell'ordine che eseguono precisi servizi mirati proprio a tutelare il consumatore da questi pericoli controllando maggiormente i mezzi soprattutto co-inventati che trasportano merce deperibile e controllando anche le temperature di utilizzo. In uno di questi servizi una pattuglia della stradale di Urbino ha fermato nei pressi del centro abitato alcuni giorni fa un veicolo commerciale che trasportava derrate alimentari come pasta fresca ripiena, burro e verdure varie al vapore e che non rispettava né le temperature degli alimenti né la pulizia del mezzo. Infatti il gruppo frigorifero era assolutamente inefficiente e la temperatura interna rilevata era di ben 20,6 gradi tre volte e mezzo in più del limite massimo ed il vano di carico della merce era notevolmente sporco. A quel punto, constatata la palese violazione degli articoli di legge relativi gli agenti della stradale hanno bloccato il mezzo ed il suo autista e richiesto l'intervento del personale dell'Asur che ha constatato le carenze igienico-sanitarie del mezzo e di conseguenza ha sequestrato gli alimenti ed elevato una contravenzione di oltre 3.000 euro al trasportatore.